Musica Non si saprà mai ragazzi Comunque si la mia squadra si chiama Curretor Come potete vedere nel mio storico sono 6-1-7 6 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte ragazzi Come vi ho detto io stavo giocando principalmente nel periodo in cui mi crashava fisso la xbox E quindi perdevo le gare a tavolino 3-0 E veramente mi scleravo male ragazzi E che dire ragazzi Andiamo su stagioni online Vediamo un pochettino cosa possiamo ricavarne da qui Andiamo su gioca partita Allora non guardate le mie formazioni ma ne ho troppo in scadenza ragazzi Ho un altro portiere che è spagnolo e sa cosa vale per il centrocampo E anche per i difensori Cioè veramente ragazzi sono un pochettino Cioè vabbè la mia Più o meno la mia squadra è fatta bene Se avessi la possibilità di Avere un altro pochettino di soldi per poter crearla al meglio Sarebbe l'ideale ma Purtroppo non fa Ah ragazzi la dura legge di Dell'ultima di team o comunque sia Dell'online dice che Che se noi giochiamo fuori Offline Cioè offline Se giochiamo fuori casa ragazzi Cioè le avversarie La connessione a suo favore Ci spacchettano il culo ragazzi Quindi raga Prepariamoci a questa sfida Il tipo vedo che c'è già gente Molto forte Però non c'è molta intesa tra di loro Quindi speriamo di riuscire a battere Almeno un 4-4-2 Gioca il tipo Quindi speriamo bene Vedo un sign del Borussia Dortmund Lì a destra La mia squadra è un pochettino più scarsina Però almeno si intende un pochettino di più Svaldo Minchia è fortino il tipo Paulsen La gente è forte ragazzi Ok Però non ha Non ha molta intesa Non ha molta intesa il tipo Quindi possiamo riuscire a giocarcela al meglio Allura Dai La mia squadra è un pochettino scarsa Più che altro Mi dispiace questo Piano il passaggio Piano Manu du moral Manu du moral no Attenzione ragazzi C'è uno squadrone Il tipo non riesce a Ballaccio No Che palle Dai ragazzi ripartiamo Ok Eccoci qui Teio Prova Ed è retta Cristian Teio 1-0 ragazzi 2-20 1-0 Eh andiamo avanti però Andiamo avanti Grandissimo I curretti sono già in vantaggio 1-0 Ho comprato un pochettino di giocatori dal Barcellona ragazzi Perché mi sono piaciuti tantissimo Eh Montoya è veramente una bestia E ovviamente non riesce a dosarsi nei passaggi ancora su Saeta Passa su Polsen mi sa Eccolo qui Cristian Teio Manu du moral Mamma Cristian Teio Teio Che schifo Ma dai centrale zio Lasne Sbaglia tutto Riprova con il contropiede a questa squadretta Mamma mia Riparte Polsen Cristian Teio ancora Perché Ma dai Ma che palle Vai ancora Manu du moral Polsen Non ce la fa tirare Polsen Cazzo Polsen ancora Ci mette grinta questa volta Riparte tutta la difesa Dammi a Ingo Martinez Ma dai Grande Vai Sì Ma dai Sì No Dai ancora Ma dai Allunga la gambina Merdina Ci prova lui Osvaldo Contro Ingo Martinez Ingo Martinez Cros che va a vuoto Palla alla difesa Grande I passaggi I passaggi sono veramente rapidi ragazzi Mamma mia Dammi a Dammi a Ancora lui Parte Parte sulla fascia Dai Vai davanti Si cazzo Arribas Su Saeta Dai Sì Vai grande Dai Ma perché te la fai anticipare Ramsey Ma non ci va davanti Ramsey Ma cosa fai Ma cosa fai Dai Ma dai Ma dai Non interviene anche Con X per niente Vai tu Polsen 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 Non ce la fa Grande Grande Osvaldo Osvaldo che non trova Passa Grande Vai E dai Ma cosa fallo Ma cosa fallo Dai Ma fai schifo Ma fai schifo Arribas Arriva su Dai Grande Dai Ma che cazzo fai Mi stanno già pressando adesso ragazzi Polsen Polsen parte sulla fascia sinistra Polsen se ne va Dai Polsen Cazzo Si Polsen Rette Si cazzo Su Saeta Mamma mia 2 a 0 Un cannone Il primo errore E subito la punizione divina Cazzo Su Saeta Polsen stato bravissimo A contenere la palla Curretor 2 Verita 0 Mamma mia Che squadra ragazzi Il tipo ci sta pensando Andiamo via o no Eh no Continua Vuole beccarne ancora di gol Ma cos'è sta merda Grande Dai Ma dai Ma cos'è Ma perché non mi dè il giocatore Decidi di andare scivolata Ma no 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 Corri Corri Manu E ovviamente il tipo vuole staccare Grande zio Grande E stacca il tipo ragazzi Affiniamo qui la partita Perché è giusto che sia una alla volta Mi prendo un bel po' di soldi ragazzi Scarsissimo il tipo che abbandona Veramente Però almeno per me sono punti Sinceramente Mi va più che bene E che dire ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Questa volta FIFA è durato meno del previsto Su Ultimate Team E Se vi è piaciuto Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace Come al solito E Che dire ragazzi Spero che quindi FIFA 14 Cioè Alla fine ci sto prendendo la mano ragazzi Finalmente ci sto prendendo di nuovo la mano E E niente ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao raga Alla fine Ciao